Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del Tare Giornale, oggi la dedichiamo al convegno della associazione nazionale gruppi ormeggiatori e barcaioli porti italiani che si è tenuto al castello di Falconara. Il tema che è stato affrontato è il servizio di ormeggio alla sfida europea. Sentiamo Fabiola Polara. Dottoressa, le infrastrutture portuali di Gela vivono un periodo di assoluta sofferenza. Il nostro porto rifugio, che potrebbe essere la porta per il Mediterraneo, un punto di snodo importantissimo, ormai da decenni è insabbiato. Quali possono essere le soluzioni? Il porto di Gela è un porto regionale e quindi tutta la competenza sta in capo alla regione che credo dialoghi anche con l'amministrazione locale perché senza questi dialoghi istituzionali non si va da nessuna parte. Ho avuto modo di parlarne, di approfondire, di chiedere anche al sindaco di Gela sollecitando anche una presa di posizione per non rimanere da soli ma fare sistema portuale. Proprio oggi il vice sindaco ha annunciato che la giunta ha già deliberato la richiesta alla regione di farsi promotrice con il nostro governo nazionale affinché Gela venga accorpata al porto di Augusta e quindi anche al porto di Catania. Comandante, la vostra presenza qui è assolutamente oggi determinante, il vostro rapporto con gli ormeggiatori è un rapporto di assoluta simbiosi? Sì, non soltanto con gli ormeggiatori ma anche con tutti i servizi tecnico-nautici che orbitano intorno al porto e intorno alla gabbianeria. Mi piace sempre dire ai servizi tecnici, ai piloti, agli ormeggiatori e quant'altro che sono i miei occhi in porto. Quindi è un lavoro che viene fatto in simbiosi con la gabbianeria, per la gabbianeria e come se appartenessero anche la gabbianeria. Noi abbiamo scelto Gela per due ordini di motivi. Il primo, come dicevo nel corso della relazione, lanciare un faro su una realtà attanagliata dalla crisi e quindi testimoniare la vicinanza di questa associazione, di questa categoria professionale ai colleghi di Gela. La seconda, noi riteniamo che Gela abbia la potenzialità per riprendersi e quindi in un certo senso attivarci coinvolgendo istituzioni, parlamentari, ministeriali, imprenditori al fine di poter ridare vita ad una realtà, diciamo così, in sofferenza. Noi in questo momento di crisi ci siamo messi d'accordo con l'associazione e il buon Guidi, qua presidente vicino a me, ha accolto il mio invito, il mio desiderio di portare l'associazione e quindi dare l'ustro a livello nazionale di questi lavori assembleari che di solito si tengono nei porti con carature anche europee, piene di strutture, pieno di economia, in un porto che non è più un porto, è un fantasma. Quindi continuo a ringraziarlo perché ha portato i lavori assembleari, non dimentichiamoci che l'oggetto e il servizio di ormeggio alla sfida europea non è il porto di Gela, però siamo stati bravi, è stato bravo anche lui, a spostare l'attenzione sulla crisi che sta attanagliando Gela. Quindi il nostro compito era questo, sfruttare i lavori assembleari, farli, portarli qua, farli visitare la nostra città e posso dire nel corso dei giorni passati è stata molto apprezzata. Il faro è stato acceso, adesso cosa accadrà? E questo sarà, noi continueremo ancora nella stessa direzione, ma avremo bisogno anche di appoggio. Io credo che sarà presa ad esempio, ci sarà altra gente come me che sarà convinta che prendendo iniziative come queste potrà far rimanere accesa quella luce. E adesso parliamo della conclusione della settimana nel segno della legalità che si svolta alla Scuola Mattei di Gela. Oggi inaugurati nuovi spazi distrutturati, presenti numerose autorità, c'era anche il Presidente della Corte d'Appello di Caltanissetta. Inaugurazione dei nuovi spazi distrutturati in seguito al finanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, oggi alla Scuola Mattei di Gela. Il taglio del nastro è coinciso in occasione dell'ultima giornata di iniziative promosse in questa settimana dall'Istituto Scolastico in tema di legalità. Noi il seme lo dobbiamo buttare, questo seme troverà talvolta terreni fertili, talvolta l'aridità, però è compito della scuola questo farlo, la scuola assieme alle altre istituzioni. La scuola rimane forse uno degli ultimi baluardi in difesa della trasmissione di valori culturali e morali fondamentali per la società. Se perdiamo questa sfida, allora vuol dire che abbiamo perso la sfida per il futuro. Presenti oggi numerose autorità, il Presidente della Corte d'Appello di Caltanissetta, Salvatore Cardinale. Le manifestazioni che si sono svolte in tutta la provincia siano la chiara dimostrazione che il concetto di legalità prende piede e deve prendere piede principalmente tra i giovani e le future generazioni. Ormai è superato il concetto della scuola che serve solamente per far di conto, come si diceva una volta, per imparare la poesia e memoria. La scuola è un centro di formazione sociale dell'individuo, come la famiglia e in accordo con la famiglia. All'iniziativa di oggi c'era anche il Presidente della Commissione regionale antimafia, Nello Musumeci. Per poter riuscire a creare un vero e proprio moto culturale nella nostra società, capace di neutralizzare ogni fenomeno criminale e mafioso, ci vorranno decenni. Se non cominciamo dalle scuole tutto diventerà più difficile. Del resto la mafia ha paura proprio della cultura, in Sicilia la mafia si è nutrita della umertà, cioè della paura di chi non vede, di chi fa finta di non vedere, di non sentire e non vuole parlare. E allora cominciamo dalle scuole per poter trasmettere un messaggio di coraggio e di rivincita. I nuovi spazi della scuola sono stati benedetti dal Vescovo della Diocese di Piazza Almerina, Monsignore Rosario Gisara. Se noi riuscissimo ad apprendere questo principio basilare che io considero, ripeto, il nucleo della legalità, quello del rispetto vicendevole, a partire da quello che il territorio e quindi quello che le tradizioni e anche il passaggio dei nostri padri hanno lasciato, penso che questo sia il miglior modo per far crescere dei ragazzi al senso della legalità, cioè a quel senso, ripeto, della dimensione vera dell'altro. Il sindaco Domenico Messinese. La famiglia ricordo che è l'elemento fondamentale su cui si basa l'educazione e quindi la legalità parte dalla famiglia e l'amministrazione deve fare la cosa semplice, rispettare le regole e le regole sono uguali per tutti. Domani, verso la sede di Forza Italia e di Gela, in corso a Vittorio Emanuele, si darà la prima riunione tra tutti i partiti nazionali di riferimento del centro-destra per la riorganizzazione dello stesso centro-destra locale al fine di costruire un progetto di rilancio della città. All'incontro, convocato dal deputato regionale Pino Federico, commissario cittadino di Forza Italia, parteciperanno il segretario cittadino di Noi Consalvini, Antonio Giudice, Bruno Antonuccio del Partito Socialista, Ghetano Minardi di Fratelli d'Italia e Grazio Trufolo del Partito Liberale. Successivamente le segretarie dei partiti terranno degli incontri con tutti i movimenti che fanno riferimento al centro-destra locale al fine di offrire al territorio e alla città una alternativa politica seria, valida, efficiente e compatta. Cambiamo argomento, mobilitazione, domenica prossima Gela si raccoglieranno firme per chiedere l'apertura immediata dell'unità complessa di sonologia Breast Unit al presidio ospedaliero Vittorio Emanuele. Oggi abbiamo sentito anche sui tagli alla sanità il deputato regionale del PD, il gelese Giuseppe Arancio. Onorevole Arancio, domenica prossima mobilitazione generale a Gela per chiedere l'apertura della Breast Unit ed anche di altri reparti del presidio ospedaliero. Se vogliamo Gela scende in piazza per rivendicare un diritto sacrosanto, le chiedo come si sta muovendo la politica regionale e perché si è verificato il taglio di 5 milioni di euro all'azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta? Allora, incominciamo intanto dal fatto che se c'è questa mobilità il PD ci sarà sempre, ci sarà tutto il PD con tutta la sua direzione. A livello regionale la Breast Unit l'abbiamo voluto, in particolar modo Pippo Di Giacomo e io, l'abbiamo fatta inserire nella rete sanitaria regionale, quindi l'abbiamo voluta e la difenderemo con i denti e con le mani. E perché non apre? Non apre perché, come ha detto lei, mancano questi 5 milioni e quindi c'è la necessità che ci vengono assegnati questi 5 milioni in cui c'è stata la presa di posizione favorevole dell'assessore regionale nella conferenza dei sindaci di tutta la provincia di Caltanissetta. Il problema è che le procedure per arrivare ad avere questi 5 milioni sono lunghe e noi entro il 2017 o entro la fine del 2016, quindi nel 2017 deve essere funzionante. Potremmo correre il rischio che non si allineano i finanziamenti con il tempo massimo in cui si apre questa unità. Il tempo non ne possiamo perdere, quindi quando c'è i cittadini che si muovono è una cosa importante, è un fenomeno sicuramente in cui deve essere guidato. Poi parleremo con l'ADOS da cui è iniziata l'associazione di donne operati al seno, è iniziata questa iniziativa per farla diventare proficua. E da qui un appello a tutta la deputazione, non gerese, di tutta la provincia di Caltanissetta, perché quando ci sono i problemi di Caltanissetta io corro, quindi invito anche i colleghi di Caltanissetta ad essere presenti perché noi dobbiamo avere un incontro con il Presidente della Regione e con l'assessore in cui noi andiamo a depositare le nostre istanze perché raccogliere le firme non basta se poi non c'è un atto esecutivo in cui interloquiamo con gli artefici, cioè coloro i quali debbono aiutarci in questo processo. Il deputato regionale di Forza Italia, Vino Federico, punta l'indice accusatorio in merito a quello che sta accadendo al Governo regionale. Il Governo regionale è chiaro, marca PD. Lui sa benissimo che ci sono delle procedure, i soldi ci sono e ci saranno, ma alla fine delle procedure. Noi non possiamo aspettare. Quindi questa è una battaglia di tutto il territorio, invito a maggior ragione lui ad esserci in tutte le tappe che saranno necessarie per arrivare all'obiettivo. L'ospedale di Gela sta rischiando di diventare una struttura di secondo piano non più capace di dare le giuste risposte alle esigenze sanitarie di un territorio peraltro devastato da un lungo e inesorabile inquinamento ambientale. Lo dice Lucio Greco di un'altra Gela. Apprendere che somme e promesse per migliorare alcuni servizi sanitari essenziali oggi sono a rischio ci portano a pensare che nei confronti della nostra città non c'è alcuna attenzione né da parte del Governo regionale né da parte dei politici chiamati a rappresentare il territorio. Costringere gli stessi medici a organizzare manifestazioni di protesta rappresenta la prova che la misura è oramai colma. Certo, se Gela tra le città più inquinate d'Europa, con il triste primato di patologie derivanti dall'insedimento industriale fosse stata difesa da una classe politica seria e consapevole, oggi avrebbe un ospedale di eccellenza paragonabile alle migliori strutture sanitarie del nord Italia, dice Greco. Ma i responsabili maggiori di questa drammatica situazione non sono tanto i deputati regionali gelesi che, lo dice ancora Greco, per scarsa autorevolezza e credibilità non hanno alcun potere decisionale. Ma quanto il Presidente della Regione che ancora una volta si sta dimostrando incapace di difendere gli interessi della sua città. A questo punto, chiude Greco, non potendo più darci di questi esponenti della politica gelese, non ci resta che protestare vibratamente per far valere i nostri diritti calpestati da chiunque e chi che sia. Sono Gabriele Giudici, Alessio Incorvaia, Omar Cicolone e studenti della Liceo Scientifico Elio Vittorini, vincitori del concorso Progetto Martina promosso dalla Lions Club di Gela. Alla secondo posto si è classificata Martina Morana, terzo posto per Polo Cagnes e Francesca Damante. Il progetto prevedeva la realizzazione di un video per la sensibilizzazione dei giovani alle malattie tumorali. I vincitori hanno ottenuto una somma in denaro offerta dalla Lions Club. Martina era una ragazza che ha perso la vita a seguito proprio di un tumore. Prima di morire ha espresso l'idea di diffondere meglio fra i giovani la prevenzione nei confronti di questa orribile malattia che è il cancro. Ecco, da lì è nato questo progetto, questo service come noi lo chiamiamo, a livello nazionale e noi ci siamo impegnati a realizzarlo anche a Gela. Gli stili di vita hanno un'importanza fondamentale di grande rilievo statistico nella prevenzione delle patologie tumorali. Sicché diffondere la cultura degli stili di vita sani che hanno appunto questa efficacia statistica di abbattere l'incidenza dei tumori e diffonderla proprio tra le nuove generazioni è una mission dei Lions a livello nazionale e che abbiamo voluto fare questa volta anche a Gela e abbiamo voluto farlo anche grazie alla preziosissima collaborazione del liceo scientifico, della preside di tutto il corpo insegnante e questa volta abbiamo voluto farla con un maggiore coinvolgimento dei ragazzi. Il nostro presidente quest'anno per focalizzare meglio questo progetto Martina ha voluto che fossero estese agli alunni con un compito in modo da focalizzare meglio. Anche per noi quindi è importante che i ragazzi acquisiscano consapevolmente corretti stili di vita ma che riflettano criticamente su determinati comportamenti che non devono essere fatti o che possono essere fatti soltanto in determinate occasioni. Quindi la scuola non può non accogliere dei progetti così validi che in qualche modo possano aiutare i nostri ragazzi a crescere in maniera più corretta possibile. Durante l'iniziativa sono stati consegnati anche attestati di merito a Marco Battaglia, Antonio Caffà, Adriana Cinardo, Alessio Giardina e Noemi Iozza. Predisporre un bando per la concessione dell'agevolazione della tariffa del servizio idrico a favore di nuclei familiari in condizioni economiche disagiate. Quanto chiedono alla giunta comunale di Gela i consiglieri di Reset 4.0 Luigi Lidio e Francesca Caruso chiesto anche di destinare ulteriori risorse oltre a quelle finanziate dall'assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro per far scorrere la gradutoria per l'erogazione dell'assegno economico per il servizio civico a favore di cittadini che versano in condizioni di disagio economico. La richiesta, dicono i due consiglieri, arriva in considerazione del fatto che la crisi finanziaria ed economica che stiamo attraversando rappresenta un momento veramente delicato per la città. Sono molte le persone e le famiglie che oggi, anche a causa di questa crisi, sono venute a trovarsi in grave difficoltà e quindi non riescono più a mantenere il loro abituale tenore di vita. Torna come ogni venerdì questa sera a Gorai, il rotocalco settimanale di Canale 10, ideato e condotto da Franco Gallo, avrà un parterra di ospiti di tutto riguardo, quattro deputati regionali e il primo cittadino di Gera, Domenico Messinese, per capire cosa vuole fare la regione siciliana di questa città e di questo territorio. Dalla vertenza Gera, della quale si parla sempre meno, alla vicenda dei ritardi nell'avvio di servizi sanitari divenuti fondamentali per la popolazione gelese, al mancato avvio del progetto di rilancio del porto. Tanti temi caldi che saranno dibattuti dall'importante salotto televisivo di Agora, dunque vi rinnoviamo l'appuntamento questa sera alle 21 su nostra emittente. Ci fermiamo, linea alla regia per la pubblicità. Benvenuti, seconda parte del telegiornale, da Gera, il polo industriale più sud dell'Europa, Basso Tirra, associazione italiana imprese di trasporto, lancia l'ultima chiamata all'Italia e all'Europa contro la crisi dei mercati, la concorrenza internazionale, la Sicilia sia hub del Mediterraneo, una vera piattaforma intermodale con strade, autostrade, ferrovie, porti e aeroporti, crocevia dei mercati dell'Europa che guardino ai paesi frontalieri e alle economie emergenti. Questi i temi che verranno affrontati domani dalle 9. Nei locali dell'hotel Villa Peretti, l'occasione del convegno nazionale, la Sicilia hub del Mediterraneo. È prevista la presenza tra gli altri del presidente della regione, Rosario Crocetta, del sindaco di Gela, Domenico Messinese, del presidente regionale Assotir, Salvatore Sciagura e dello sottosegretario ai trasporti, la senatrice Simona Vicari. Saranno due le tavole rotonde, moderate dalla giornalista Monica Adorno, in cui si alterneranno addetti ai lavori e politici. Una cerimonia quella al teatro Regina Margherita per la festa della polizia che ha voluto rappresentare un momento di incontro, di riflessione e per ringraziare chi quotidianamente con grande senso di abnegazione sta vicino alla gente garantendo il bene supremo della sicurezza. Come ogni anno infatti sono stati consegnati 47 riconoscimenti tra lodi ed encomi ad altrettanti poliziotti della questura, dei commissariati di Gela e Niscemi e delle specialità presenti in provincia, contraddistintisi in particolari operazioni di polizia giudiziaria e di polizia di prossimità. L'operazione è intestata al centro di Rossignano Solvè ma in realtà si è svolta e riferita a fatti gravi avvenuti a Niscemi. Si tratta di indagini di un vero e proprio cold case legato all'omicidio del povero Pier Antonio Sandri, fatto che è stato per tanto tempo la ribalta della cronaca anche sulle testate nazionali. L'occasione di oggi in realtà è un'occasione sì a parole premiale ma è l'occasione in realtà nella sostanza per ricordare il valore dei significati umani che sono stati colpiti dal delitto che è stato perseguito ed è il momento di dare il riconoscimento agli uomini che si sono prodigati per la soluzione del caso, quindi per restituire dignità alle legittime aspettative dei cittadini che sono stati colpiti. Noi non siamo qua per una manifestazione esteriore volta a noi stessi, noi siamo qua per attestare una volta all'anno formalmente se ce ne fosse bisogno che siamo a disposizione della gente e del popolo italiano. Sì, una lode per l'attività che abbiamo svolto negli ultimi anni per l'attività di polizia di prossimità, in particolare per l'attività del cyberbullismo e dei pericoli della rete. È un riconoscimento che il Dipartimento ha fatto ancora che a me che l'ho curato il progetto in prima persona, comunque alla questura di Caltanissetta che ha fatto importanti numeri qualitativi e quantitativi, più di 10.000 ragazzi, l'ho detto più volte, abbiamo fatto degli opuscoli e questa attività di questi quattro anni si è conclusa nel senso che ha avuto il suo vertice l'altro giorno a Gela dove è arrivato il track della polizia postale e quindi la polizia di Stato è esserci sempre vicini anche ai ragazzi e soprattutto ai ragazzi. Un fenomeno in crescita quello del cyberbullismo? Iniziando a parlarne iniziamo a rendere più consapevoli i ragazzi anche del fatto che determinate cose che subiscono possono essere considerate irate e che quindi vanno denunciati e combattuti. I ragazzi oggi hanno bisogno di informazioni, noi speriamo di stargliene dando sia dal punto di vista etico che tecnico e quindi è un'attività di educazione che deve e continuerà ad andare avanti. Una giornata formativa per la sicurezza stradale rivolta a famiglie e giovani è stata promossa dall'assessorato alla polizia municipale del comune di Gela retto da Eugenio Catania. L'iniziativa di educazione stradale integrata sarà tenuta dagli agenti coordinati dal comandante Giuseppe Montana domani alle 10 al Cineteatro Antidoto di Macchitella. Saranno illustrati i principali comportamenti da evitare in strada e quelli necessari a ridurre rischi in un incontro che non sarà solo una lezione frontale classica ma un confronto vivace e costruttivo con la partecipazione della compagnia teatrale Antidoto. Sono stati ultimati i lavori per la realizzazione di alcuni scivoli sui marciapiedi in prossimità delle strisce pedonali e dei liti balneari sul lungomare Federico II di Svevia a Gela al fine di consentire l'accesso dei diversamente abili sulla spiaggia. Un sopralluogo è stato effettuato dagli assessori comunali ai lavori pubblici Flavio Di Francesco e ai servizi sociali Licia a Bela. I proprietari degli stabilimenti balneari nelle scorse settimane sono stati invitati dal sindaco Domenico Mersinese a predisporre per le proprie competenze tutti gli accorgimenti per rendere fruibili i loro servizi anche a chi ha problemi di deambulazione. Il primo cittadino aveva suggerito la realizzazione di discese e ingressi accessibili, servizi igienici attrezzati, cabine, spogliatoio e docce, carrozzine e sedie per l'accesso in spiaggia e in acqua, lettini rialzati. Alcuni privati hanno risposto positivamente anche alla proposta di realizzare spazi in cui siano ammessi animali domestici. L'animalità è chiaramente permettere ai diversamente abili di poter accedere senza ostacoli alle spiagge e in questo caso ai vivi. Ci siamo attivati con un'impresa per poter andare ad effettuare questi accessi, sono quattro accessi diversamente abili e ci attiveremo dove sarà necessario ovviamente per abbattere le barriere architettoniche. È uno dei tanti piccoli accorgimenti che stiamo ponendo in essere proprio per fare in modo che tutti possano avere l'accesso a questo splendido mare che è una delle risorse sicuramente più importanti della città. È giusto che tutti ne possano godere sentendosi liberi di poter fruire di strutture private e altresì pubbliche attraverso dei piccoli accorgimenti che possono rendere facile l'utilizzo e la fruizione delle spiagge e dei lì di balneari. Siccome è stato richiesto dal sindaco ovviamente c'è stata proprio una richiesta chiara ed esplicita affinché anche i privati, anche i lì di privati si potessero in qualche modo dotare di quegli accorgimenti tecnici che possono essere necessari per fare in modo che appunto la fruizione delle spiagge possa essere davvero accessibile a tutti. Soddisfazione è stata manifestata dai componenti della sesta commissione consigliare, Sammito, Amato, Bonura e Didio che già in alcune occasioni avevano presentato delle interrogazioni per abbattere le barriere architettoniche al lungomare Federico II di Svevia. Le proposte presentate dicono sono valide e fattibili. Sarà presentato questa sera alle 21.30 al Club Bala Meridiana di Casinalbo in provincia di Modena il primo lavoro discografico del gezzista gelese Samuele Mammano dal titolo Euforia. Una storia quella di Mammano cominciata all'età di 4 anni quando per la prima volta suona il pianoforte per poi studiare clarinetto e tromba e esibirsi in pubblico nei vari gruppi musicali dall'età di 14 anni. Parallelamente alla laurea conseguita in Ingegneria Informatica ha frequentato seminari jazz e ha suonato in giro per il mondo Stati Uniti d'America, Giappone, Albania e Argentina. Queste esperienze condite da altrettanti sacrifici lo hanno condotto all'uscita del suo primo disco Euforia che descrive appieno il modo di intendere la musica di Samuele con quel sorriso e quella spensatezza rimasti intatti dal momento in cui si è avvicinato per la prima volta a questo mondo. Nei sei inediti i cui testi sono stati realizzati in collaborazione con il musicista Giuseppe Sant'Angelo, arrangiati assieme a Rocco Mammano in chiave jazz, oltre alla componente estrosa traspare anche la malinconia verso la terra natia che l'artista ha dovuto abbandonare espressa nella canzone intitolata Geras, scritta interamente in siciliano. Non manca l'omaggio alla città di Modena con il brano Nessun dorma che ha reso celebre in tutto il mondo il maestro Luciano Pavarotti, rivisitato in una versione elettrica. La parte grafica dell'album realizzata da Rocco Cubato è stata impreziosita dai dipinti messi a disposizione dal pittore Giovanni Iudice, esposti di recente nella mostra curata da Vittorio Sgarbi, artisti di Sicilia da Pirandello a Iudice, che ripercorre la produzione artistica, fotografica e documentalistica dell'isola dagli anni 30 a oggi. Insegnare ai bambini a conoscere e rispettare le diverse culture del mondo è l'obiettivo raggiunto dall'associazione La Polis della Cultura, presieduta da Enzo Verderame. I bambini hanno realizzato dei cartelloni e totem per descrivere i diversi continenti e alla fine del programma hanno ricevuto un attestato di partecipazione dalla vicepresidente della Polis della Cultura, Tiziana Iozza. Appuntamento ieri pomeriggio nei locali della scuola elementare Antonietta Aldisio, diretta da Adriana Quattrocchi. I volontari che hanno preso parte del progetto di educazione alla mondialità sono Mary Giorranello, Giuseppe Biundo, Giuseppe Tallarita, Andrea Trenito e il tutor Tonino Lauretta. Con la notizia dedicata ai bambini e alla scuola noi chiudiamo l'informazione di oggi. Grazie per averci seguito. Appuntamento alle prossime edizioni. Grazie per averci seguito. Grazie per averci seguito.